Buongiorno, anche oggi su tutta la penisola sono previste pesanti impronte. Ho deciso di raccontarlo con alcuni ospiti per scoprire cosa possiamo fare per ridurle. Impronte è un podcast di E.ON condotto da me, Andrea Giuliacci, una produzione One Podcast. Dalla redazione di Internazionale io sono Claudio Rossi Marcelli. Io sono Giulia Zoli e questo è Il Mondo, il podcast quotidiano di Internazionale. Oggi vi parleremo del Venezuela e di libri da leggere quest'estate e poi della nuova copertina di Internazionale e di Mitologia nella Cultura Brasiliana. È giovedì 25 luglio 2024. Somos un poder electoral, institucional. Somos un poder militar, porque la Fuerza Armada Nazionale Bolivariana mi apoya. È chavista, è bolivariana, è rivoluzionaria. Il 28 luglio in Venezuela si terranno le elezioni presidenziali. Il presidente socialista Nicolás Maduro, che avete sentito durante un comizio elettorale, è in cerca di un terzo mandato consecutivo. Nelle ultime settimane il governo ha intensificato la repressione contro l'opposizione, che secondo i sondaggi è in vantaggio. Queste elezioni saranno decisive per determinare il futuro della democrazia di un paese che ha le maggiori riserve di petrolio del mondo, ma da cui negli ultimi anni quasi un quarto della popolazione è andata via a causa della crisi economica e di un governo sempre più autoritario. Ne parliamo con Stefano Pozzebon, giornalista che segue l'America Latina per la CNN, che abbiamo raggiunto a Caracas. Qui a Caracas ormai mancano pochi giorni a queste elezioni presidenziali, c'è chiaramente grande aspettativa e grande tensione. Nelle ultime settimane si è un po' mostrata in modo lampante la campagna elettorale un po' bicefala forse, perché l'opposizione, che è fortemente favorita nei sondaggi, è praticamente assente da tutti i manifesti elettorali, con quelle che potrebbero essere i media elettorali, in termini di cartelli per le strade o spazi pubblicitari sui canali televisivi o radiofonici venezuelani. Mentre invece il governo ha messo in piedi un'enorme campagna mediatica usando tutto l'apparato economico dello Stato, qua a Caracas ci saranno immagini di Maduro ormai ad ogni angolo, slogan e cartelli, però ai giornalisti tanto locali come stranieri non è stato permesso seguire la campagna del presidente Maduro, si dice per ragioni di sicurezza, sono anni che Maduro dice di essere stato minacciato di attentati, infatti nel 2018 c'è stato un attentato contro Maduro usando addirittura dei droni, da allora l'agenda di Maduro è talmente segreta che nemmeno i suoi ministri sanno dove possa essere nel pomeriggio, c'è stata una conferenza stampa sabato in cui io sono andato in cui il ministro, il portavoce della campagna di Maduro diceva il presidente ha visitato 180 città venezuelane negli ultimi mesi nella sua campagna e noi eravamo è bellissimo, sarebbe stato anche bello andare con loro perché non ci è stato dato modo di sapere dove si trovasse Maduro in quale giorno e lui ha risposto che questo era per ragioni di sicurezza e che solamente nell'ultime ore Maduro gestisce i suoi spostamenti da quel punto di vista lì. Chiaramente è un'elezione strana perché forse è l'elezione che può portare a più conseguenza a livello regionale per gli altri paesi dell'America Latina, però gli avvicinamenti del Nord America con l'attentato contro l'ex presidente candidato Donald Trump e ora la decisione di Joe Biden di ritirarsi dalla campagna presidenziale di quest'anno, passare il testimone alla sua vice Kamala Harris ovviamente hanno fatto sì che moltissime media si stanno occupando molto di più di quello che succede in Nord America e purtroppo non dando il dovuto spazio al Sud America perché questa è un'elezione che ovviamente può avere delle enormi conseguenze non solo per il Venezuela chiaramente ma per tutto il continente americano e anche per alcuni paesi europei. Maduro lo ricordiamo al potere dal 2013 ma tu hai detto poco fa che i sondaggi danno favorita all'opposizione ci racconti come si è organizzata l'opposizione per queste elezioni? Sì, l'opposizione era arrivata con le ossa rotte dopo l'esperienza fallimentare di Guaidò che era stato questo presidente del Parlamento venezolano che nel 2019 si era autodichiarato presidente interino visto che Maduro aveva vinto le elezioni del 2018 con delle elezioni che erano state considerate non libere non attentibili da parte della stragrande maggioranza della comunità internazionale quindi c'è stata quell'esperienza in cui il Venezuela ha vissuto per alcuni mesi con due presidenti o due persone che si dichiarassero presidenti ovviamente poi Maduro è quello che ha in mano i militari e l'apparato produttivo dello Stato quindi l'esperienza di Guaidò è stata estremamente fallimentare l'opposizione era iniziato un po' a camminare verso la fine dell'anno scorso in cui ha organizzato delle primarie che sono state vinte alla stragrande maggioranza da Maria Corina Maciado una leader di destra è la prima leader politica che si dichiara apertamente di destra qui in Venezuela io quando l'ho intervistata mi diceva che il suo ideale politico è Margaret Thatcher per esempio quindi sicuramente una leader un po' controversa che comunque ha vinto alla stragrande maggioranza queste elezioni primarie dell'opposizione alla Maciado non viene permesso di partecipare alle elezioni presidenziali di quest'anno viene nominata una sostituta anche la sostituta non viene permesso di correre e quindi il testimone, la candidatura passa a un ex diplomatico Edmundo González un ex diplomatico ormai in pensione noi alla Siena abbiamo fatto un profilo lo chiamavamo un nonno perché diceva che era praticamente aveva lasciato la vita pubblica era in pensione con sua moglie curando i quattro nipoti che ha viene chiamato alla fine del era intorno a fine aprile, inizio maggio a partecipare come candidato in queste elezioni e nell'ultima settimana in realtà González si è rivelato un ottimo candidato soprattutto perché è molto conosciuto nella comunità diplomatica quindi diversi ambasciatori, le cancellerie degli altri stati dell'America Latina lo conoscono, è stato ambasciatore in Argentina ha avuto, ha tessuto contatti per anni con altri ministeri ministeri degli esteri, di altri paesi dell'America Latina parla quattro lingue mi pare parla sicuramente francese, inglese e spagnolo penso che parli qualcosa anche di portoghese ha vissuto un po' in tutto il mondo e soprattutto rispetto alla Machado si è presentato con un messaggio molto più garantista nei confronti dell'attuale governo quindi dicendo che è venuto un momento di pensare un discorso di amnistia per i crimini contro i diritti umani che alcuni membri del governo sono accusati di aver commesso parlando di giustizia transizionale parlando di una necessità di rieportare la grande famiglia venezolana sotto un'unica casa e soprattutto ha incentrato la sua campagna intorno al tema drammatico della migrazione perché questo paese è un paese che negli ultimi dieci anni ha visto ormai il 25% della sua popolazione lasciare il paese per cercare migliori opportunità da altre parti 8 milioni ormai sono i venezuelani che vivono all'estero alcuni hanno iniziato a rientrare perché negli ultimi anni il governo ha implementato alcune liberalizzazioni quindi l'economia qui in Venezuela sta un po' migliorando però comunque la migrazione è un dramma un trauma che tocca ogni famiglia venezolana Edmundo lo sa bene perché dei suoi nipoti due vivono in Spagna e quindi mi raccontava che li vede solamente per videochiamata l'ha maciato anche a tre figli tutti e tre vivono all'estero e quindi la migrazione è diventata un canale comunicativo dell'opposizione il loro messaggio è che se Maduro dovesse cadere davvero queste migliaia, cinque migliaia o milioni di migranti potrebbero forse tornare in Venezuela ed è anche il motivo per cui moltissimi della comunità internazionale stanno davvero guardando con molta apprensione e molto interesse a questa elezione perché queste sono le conseguenze per il resto dell'America Latina In un articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito Camilla Desideri che è l'editor di America Latina di Internazionale ha scritto che il governo sta provando a reprimere il sostegno verso l'opposizione durante questa campagna elettorale in concreto che cosa sta facendo il governo? Sì, il governo ha nell'ultime settimane, negli ultimi giorni anche detenuto diversi esponenti dell'opposizione ma non i leader non ha detenuto la maciato non ha detenuto Gonzales o altri leader di primo piano essenzialmente hanno detenuto quelli che gli stanno intorno l'apparato che permette all'opposizione di canalizzare il proprio messaggio ad esempio hanno detenuto il responsabile della sicurezza della maciato, hanno detenuto diversi proprietari di ristoranti, alberghi dove la maciato e i Gonzales si sono magari alloggiati o sono andati a mangiare durante i comizi della campagna elettorale però allo stesso tempo la campagna elettorale in sé non si è fermata, bisogna dirlo io ad esempio sono stato nella città di Maracay settimana scorsa che è sempre stato considerato un bastione del ciavismo perché da dove nel 92 Ugo Chavez aveva mosso i primi passi nel suo colpo di stato militare nel 4 febbraio del 92 quindi iconicamente è considerata la culla della rivoluzione e tutte queste cose qua e avevo seguito un gruppo di ragazzi che stavano facendo campagna elettorale i più grandi avranno avuto 24-25 anni quindi un gruppo giovane che apertamente lanciava volantini o con uno megafono o gridava slogan elettorali contro Maduro questo 5 anni fa sarebbe stato impensabile 10 anni fa sarebbe stato impensabile quindi sì c'è l'apparato repressivo del governo ovviamente però allo stesso tempo è una campagna elettorale competitiva ricordo che avevo parlato con diverse fonti diplomatiche e da parte della comunità internazionale e soprattutto dei paesi che stanno accompagnando l'opposizione quindi alcuni paesi europei gli Stati Uniti il Brasile in questo caso la richiesta o il messaggio è meno sulla libertà delle elezioni nessuno si fa illusione che questa sia un'elezione libera però sul fatto che questa è una elezione competitiva in cui davvero allo stato delle cose non sappiamo che cosa possa succedere il 28 di luglio l'opposizione potrebbe vincere in una marea sicuramente se le autorità elettorali riconoscessero il trionfo e il voto dell'opposizione potrebbe essere che Maduro riesca in qualche modo a vincere legalmente o potrebbe essere che appunto si compia un altro fraude elettorale in Venezuela ci sono stati diversi esempi nel 2018 nel 2021 in cui le autorità elettorali essenzialmente giochino un po' con i numeri per poter dare il trionfo a Maduro A questo punto proviamo a tracciare sinteticamente i due scenari cosa significherebbe per il Venezuela un'eventuale riconferma di Maduro e cosa invece una sua sconfitta La riconferma di Maduro sarebbe essenzialmente una riconferma dello status quo quindi la riconferma di una economia che rimane in situazioni gravissime oltre l'80% della popolazione venezuelana vive al di sotto della soglia della povertà però che comunque ha permesso ad alcuni settori dell'economia soprattutto nella alta società di Caracas o in alcune altre grandi città di ricreare alcune bolle di ricchezza ormai ci sono investimenti stranieri Maduro si lamenta molto delle sanzioni petrolifere degli Stati Uniti è vero che queste sanzioni stanno ovviamente ponendo un freno all'economia venezuelana però allo stesso tempo gli Stati Uniti sono ormai due o tre anni che emettono delle licenze d'emergenza per permettere a diverse compagnie petrolifere statunitense soprattutto Chevron di fare business qui in Venezuela e di fatto gli Stati Uniti sono in questo momento il più grande compratore di petrolio venezuelano nonostante questa grande retorica quindi essenzialmente Maduro sarebbe uno status quo ovviamente una vittoria dell'opposizione sarebbe riportare il Venezuela all'interno di vari forum internazionali quali l'organizzazione degli Stati Americani sarebbe riaprire il mercato venezuelano a diverse imprese internazionali tra cui ad esempio la Eni italiana che qui ha avuto aveva diversi investimenti nel campo del petrolio e dell'energia che sono stati espropriati negli anni di Chavez e poi di Maduro e sarebbe anche a livello geopolitico riportare il Venezuela da un asse insieme a Cina Russia Iran Cuba nell'asse dei paesi più occidentali più allineati verso Washington e l'Unione Europea Grazie a Stefano Puzzebon Grazie a voi Maisa Moroni fotoeditor di Internazionale racconta la copertina del nuovo numero Mangesh Gogre è un uomo di 43 anni di Mumbai in India abilissimo nel realizzare cruciverba Gogre è anche una delle pochissime persone che nel 2022 ha ottenuto uno dei permessi di soggiorno permanente negli Stati Uniti più difficili da ottenere il visto EB1A detto visto Einstein riservato alle persone straniere con capacità straordinarie l'articolo di copertina di questa settimana ripreso dal New Yorker e che potete ascoltare anche nel podcast in copertina racconta la storia del cruciverba e come oggi questo gioco debba trovare il modo di liberarsi dagli stereotipi e riflettere la diversità del mondo l'immagine di copertina è dell'illustratore Andrea De Santis una rivista aperta su una pagina con un grande cruciverba è appoggiata in piedi su una spiaggia intorno ci sono degli occhiali da sole una crema solare un cocktail rinfrescante e una penna alcune caselle del cruciverba però sono delle piccole finestrelle da cui si affacciano uomini e donne di tutto il mondo stanno guardando un omino che sale su una scaletta disegnata per raggiungerli cruciverba senza frontiere è la nuova copertina di internazionale I don't think I would have ever written a novel about this particular character just like a straight novel I think that the idea of the character came out of the idea of a fake biography partially because I just love biographies and I wanted to write a real one I still would like to write a real one someday and I like especially the biographies that are written by the wrong person and there's no l'idea della protagonista è venuta dall'idea di scrivere una finta biografia mi piacciono molto le biografie e soprattutto le biografie scritte dalla persona sbagliata così Catherine Lacey racconta la genesi del suo ultimo lavoro Biografia di X un romanzo avvincente in cui una vedova ricostruisce il misterioso passato della moglie morta Biografia di X è uno dei libri scelti da Gaia Tarini della libreria verso di Milano alla quale abbiamo chiesto una selezione di titoli da leggere quest'estate allora sarà una piccola selezione di libri per tutti i gusti chiaramente senza la pretesa di universalità sono quasi tutti tranne uno scritti da donne è stato un anno ricco di novità di belle novità come dicevo sono quasi tutti scritti da donne e tradotti da donne questo può essere un po' il filo conduttore a parte il primo che si chiama attraverso la notte di William Sloan e poi ci saranno la biografia di X di Catherine Lacey Bernan Wood di Eleanor Catton il costo della vita di Deborah Levy che fa parte di una trilogia invito a pranzo di Alba De Cespedes il giardino contro il tempo di Olivia Lying e poi ci sono due saggi che sono stranieri noi stessi di Rachel Aviv e mostri di Claire Dederer questa lista di titoli è anche nella descrizione del podcast allora cominciamo dai romanzi allora il primo romanzo di cui parliamo è Attraverso la notte è l'unico romanzo scritto da un uomo che è William Sloan uscito con Adelphi con la traduzione di Gianni Pannofino e la prefazione di Stephen King è un romanzo che disprezza i generi è la storia di due studenti che vanno a trovare un loro professore di astronomia e lo trovano avvolto dalle fiamme questa morte misteriosa porta poi al suicidio di uno dei due e alla comparsa di una moglie misteriosa che appunto sembra non avere passato sembra non avere una famiglia e quindi porta i due giovani sull'orlo dell'ossessione è un romanzo sull'ossessione che gioca con tanti temi tanti generi con quello della fantascienza con quello del thriller e lo possiamo definire un gotico moderno il secondo è Biografia di X di Catherine Lacy uscito per sure tradotto da Teresa Ciuffoletti anche questo è un libro a genere lo hanno definito una teoria del caos incorniciata in un romanzo di finzione è la storia di una giornalista che decide di scrivere la biografia della moglie che è stata una delle principali artiste del novecento che ha incontrato delle personalità incredibili dalla Lonzi a David Bowie e la cosa molto bella è che ci dice che cosa può fare il romanzo adesso perché è pieno di note citazioni con i riferimenti e fotografie che in realtà sono del tutto inventate è un romanzo sull'identità che gioca appunto con la realtà e la finzione ma è anche un grandissimo romanzo d'amore che parla di dipendenza emotiva il terzo invece è Bernan Wood di Eleanor Catton tradotto da Giulia Boringheri che è uscito con Einaudi la Catton è stata una giovanissima vincitrice del Booker Prize con un romanzo precedente che si chiamava Illuminari questo libro è un classico page d'arner quindi un libro che si legge molto in fretta ricorda molto la scrittura del miglior franzan quindi anche quello di libertà con cui questo libro dialoga moltissimo è la storia di questo collettivo di attivisti che fanno guerri a gardening in Nuova Zelanda in un'area protetta che a un certo punto incontrano un multimilionario senza scrupoli alla Elon Musk che sta costruendo un bunker cercando di sfruttare invece queste bellezze naturalistiche e decide di finanziarli quindi è un romanzo sulla ricerca della purezza in un mondo dove chiaramente la radicalità è tosta è molto tosta è un libro che parla di capitalismo di ecologia quindi è un libro estremamente attuale abbiamo parlato di una finta biografia ma nella tua lista c'è anche un libro che racconta invece una vita reale sì è la trilogia di Deborah Levy di cui noi prendiamo a esempio il secondo che è uscito adesso e che si chiuderà poi a settembre con l'ultimo libro quello di cui parliamo adesso è Il costo della vita ma appunto sono tre romanzi tradotti da Gioia Guerzoni usciti per NN che sono di questa scrittrice inglese ma nata in Sudafrica ed è questo un memoir che racconta in parte la sua infanzia l'arresto anche del padre mentre appunto erano in Africa il rapporto con la madre ma soprattutto i temi di cosa vuol dire essere una donna che affronta il divorzio cerca di farsi una famiglia ma vuole anche essere una scrittrice lei ha 60 anni e in questo libro cita moltissime autrici che sono state utili alla sua formazione dalla Dura alla Wolf quindi c'è molto dialogo tra autrici donne è un libro inquieto è una biografia increscendo piena di dettagli di piante di oggetti di case quindi sono tre libri piccoli adesso ce ne sono solo due il primo si chiama cose che non voglio sapere ma sono libri anche molto densi molto molto belli nella tua selezione c'è solo un titolo italiano e di un'autrice che è morta quasi 30 anni fa come mai? fortunatamente in questo momento c'è una riscoperta di tante autrici italiane io ho dovuto fare chiaramente una scelta tra loro sappiamo che in questo momento si sta rileggendo la Sapienza si stanno rileggendo autrici come la Ramondino la Cialente io ho scelto Alba De Cespedes con una raccolta di racconti che si chiama Invito a pranzo che pubblica una casa editrice che si chiama Clicò che ha scelto Nadia Terranova per la prefazione questi sono dei racconti molto molto belli sono stati scritti tra il 36 e il 54 mi piaceva parlare di lei perché oltre che un'autrice bravissima e dimenticata per tanto tempo adesso sta tornando è stata anche una grande antifascista e lei oltre a dirigere una rivista teneva anche una rubrica su Epoca per parlare di donne quindi questi racconti parlano di donne di donne di classi sociali molto diverse tra loro di cui lei indaga le psicologie profonde ci sono due racconti meravigliosi che credo siano tra i più belli del novecento mai scritti che si chiamano Rosso di sera e giornata d'agosto e io scelgo lei perché Alba De Cespedes era una donna acculturata molto consapevole dei propri mezzi e che secondo me davvero può stare all'altezza dei suoi colleghi maschi che hanno avuto un riconoscimento chiaramente maggiore di quanto ne abbia avuto lei Il libro di Olivia Leing è difficile da classificare dal punto di vista del genere in quale categoria lo metteresti? Allora Il giardino contro il tempo è l'ultimo di una lunga serie di appunto libri che sono ibridi tra il memoir e la saggistica definirei in questo caso è uscito per il saggiatore come tutti gli altri e tradotto da Katia Bagnoli lei fa questi libri che sono dei memoir che si mischiano un po' al reportage all'indagine bibliografica storica in questo caso paesaggistica lei racconta come nel 2020 abbia comprato questa tenuta nel Suffolk e si sia dedicata a tirare su questo giardino appartenuto ad una coppia famosissima di paesaggisti lei in qualità tra l'altro di studente di erboristeria attivista per l'ambiente eccetera quindi con questa scusa racconta tantissime altre storie di ville di giardini che sono stati importanti per esempio parla di una tenuta che si chiama la foce in Toscana che ha vissuto anche tutta l'epoca dell'occupazione eccetera eccetera quindi è un romanzo molto molto seducente che fa parte di questa letteratura del paesaggio che adesso sta tornando molto questa letteratura ambientale che fortunatamente sta tornando con una scrittura sublime come quella che lei ha concludiamo con i saggi ma i saggi possono essere libri da ombrellone? beh secondo me sì in questo caso io ne ho scelti due che sono usciti rispettivamente per Iperborea e per questa nuova collana in collaborazione tra Iperborea e il post che si chiama Altre cose perché sono entrambi due saggi molto molto potabili e che nonostante affrontino dei temi anche pesanti oltre che molto attuali sono molto leggibili sono tradotti rispettivamente da Claudio Durastanti e da Sara Principe uno si chiama Stranieri a noi stessi appunto di Rece Labib uscito per Iperborea e lei è una giornalista del New Yorker è un libro molto molto bello che parla di salute mentale a lei a sei anni diagnosticano l'anoressia da cui poi guarisce quindi lei costruisce questo libro che parla di diagnosi psichiatrica quindi su questo mondo che noi abbiamo estremamente medicalizzato e si domanda attraverso cinque storie durissime e commoventi che cosa succederebbe se effettivamente la malattia e il disagio mentale fossero vissuti non come qualcosa da isolare ma invece come qualcosa di cui occuparsi collettivamente e che sguardo nuovo possiamo dare anche al cosiddetto disagio mentale al libro stupendo l'altro si chiama Mostri lo ha scritto Claire Dederer ha una prefazione Giulia Siviero molto bella e questo qui invece parla del conflitto che c'è anche questo molto attuale su opera artista la separazione tra queste due cose quindi dentro si parla di Roman Polanski di Woody Allen c'è un capitolo straordinario su Nabokov e lei scrive dal punto di vista di una donna che è stata molestata quello che io trovo stupendo di questo libro è che non ha la presunzione di dare risposte nette ma di mettere in campo molte domande e soprattutto insomma di venire a patti con la propria capacità di analisi e anche di esercitare una certa indulgenza quindi sono entrambi saggi che chiaramente ci portano a tematiche importanti ma che si leggono davvero velocemente grazie a Gaia Tarini grazie a voi il podcast della settimana consigliato da Jonathan Zenti autore e produttore di podcast che scrive per la rubrica suoni su Internazionale lo scorso weekend si è tenuta in alcune frazioni della provincia di Ferrara la prima sagra del podcast organizzata dal team di Cevita nel Grande Nulla Agricolo da Arci Ferrara e dalla Proloco di Viconovo una delle frazioni non un premio non un evento industriale con i panel e con gli speaker ma una vera e propria festa una sagra appunto che ha celebrato alcune delle più ambiziosi produzioni indipendenti degli ultimi anni uno degli appuntamenti più interessanti della tre giorni di rassegna è stata un'escursione in battello sul Po mentre si ascoltavano storie di folclore e miti acquatici e fluviali legati al rio delle Amazzoni in particolare al tratto del fiume che attraversa il Brasile a raccontare queste storie era Loretta da Costa Perrone autrice e voce del podcast Lendash che in portoghese vuol dire leggende da Costa Perrone è nata in Brasile ed è arrivato in Italia con la sua famiglia all'età di sette anni nel suo podcast racconta in brevi episodi di circa 15 minuti l'uno un mito della cultura popolare del suo paese d'origine cercando però di rintracciarne la nascita l'ibridazione con le altre culture l'influenza del colonialismo e il legame spesso molto stretto anche con la lingua e le leggende italiane gli episodi partono sempre da ricordi o aneddoti della sua vita familiare come quando prima di andare a una festa giunina una delle feste che si tengono a giugno in Brasile le veniva raccomandato di non fermarsi a parlare con gli uomini che non si levano il cappello perché potrebbero essere dei boccio corderoja dei delfini tramutati in uomini che mettono incinta le donne contro la loro volontà per sentire come nascono questa e altre leggende brasiliane ascoltate l'Endash di Loretta da Costa Perrone disponibile su tutte le piattaforme dalla redazione di Internazionale per oggi è tutto scriveteci a podcastchiocciolainternazionale.it o mandate un messaggio vocale al numero che trovate nella descrizione del podcast e dell'episodio e per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio iscrivetevi al podcast l'appuntamento con il mondo è domattina alle 6.30 di internazionale